carissimi amici quante volte ci siamo chiesti perché questo perché inizia fin da bambini ecco e su questa domanda perché padre l'attario ha scritto una poesia che ora vi leggerà ve la leggo perché mi hanno chiesto di leggervela se mi commuovo non preoccupatevi solo la mia la mia esperienza umana interiore spirituale affettiva perché 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 a te mio fratello mia sorella perché nato malato nato qui su un'isola sperduta ho chiesto al vento mi ha soffiato sul viso ho chiesto la vita mi ha lanciato nel mistero grande del bene del male ho chiesto mamma mi ha guardato abbracciato baciato con gli occhi pieni di gioia accarezzato tu sei dono di ho chiesto a papà mi ha preso in braccio mi ha alzato verso il cielo tu il miracolo di dio allora ho deciso cammino cammino sognando bevendo perché bene cresca l'amore si dilati la mia vita sia dono grazie padre ottavio per queste parole per questa poesia continuiamo ogni giorno a chiederci perché andiamo avanti con fiducia AMSIS C'è Grazie.